La closing season riparte con le stesse certezze della middle. A Singapore lo spettacolo la fa da padrone. In F1 Ozak, malgrado i forzennati attacchi degli avversari, fa cinquina. La F2 è ancora sotto il segno di Yvimeth, che con una precisione chirurgica dà vita ad un capolavoro. Ora si passa in Russia, dove la vera sfida, ancora una volta, è uscire indenni. Da soci e su FMP Channel, Gran Premio di Russia. Lunedì la F1, martedì la F2, ore 22.30. Per due serate di puro spettacolo.